Ben tornati negli studi di Tele2000, un confronto quello di oggi con i candidati sindaco per le amministrative dell'8 e del 9 giugno ad Urbino. Ringrazio per essere qui i candidati, abbiamo Federico Scaramucci come candidato sindaco per il centro-sinistra, Maria Francesca Crespini con una lista civica e Maurizio Gambini con il centro-destra. Benvenuti, grazie di essere qui con noi, abbiamo il piacere di averli tutti e tre per questo confronto, un confronto per cui sono stati sorteggiati l'ordine delle risposte e faremo in modo tale che ognuno dei candidati risponda per primo a turno con un ordine stabilito insieme all'inizio attraverso un'estrazione. Ogni domanda avrà come minutaggio di risposta due minuti per ogni candidato. Do la parola a questo punto a Federico Scaramucci. Qual è la priorità, la prima cosa che farà come sindaco nel momento in cui dovesse vincere? Sì, noi abbiamo costruito una coalizione, La Città che Verrà, che vuole dare un progetto nuovo, una prospettiva nuova alla città di Urbino e al territorio. La prima cosa sarà formare una squadra di persone competenti nei vari settori, con tutte le nostre liste, perché noi per ogni punto del programma che abbiamo descritto e abbiamo concordato, anche che abbiamo costruito, anche insieme alla città, nei vari incontri che abbiamo fatto, nei vari appuntamenti tematici, abbiamo persone che sanno di che cosa si parla. Quindi, primo, formare una squadra di persone competenti nella squadra di giunta. Secondo, la sanità, quindi la priorità, diciamo, è quella della salute per i cittadini, quindi attenzione all'ospedale e alla sanità territoriale, ovviamente no alle discariche. E terzo, una programmazione di iniziative per rendere la città nuovamente attrattiva, perché in questi anni è una città che ha perso fortemente attrattività, oltre che la popolazione, le imprese, le presenti turistiche. Quindi occorre ridare protagonismo a una città come Urbino, che è una città importante a livello locale, nazionale e internazionale. Maria Francesca Crespini, come eventuale sindaco, quale sarebbe la prima cosa che attuerebbe? Sì, chiaramente Urbino, l'economia si basa su due grandi motori, al di là dell'università, che chiaramente è la prima, ma è il turismo e la cultura. Quindi la prima cosa che faremo è istituire un tavolo tecnico, perché il problema secondo noi di questa amministrazione è stata di non avere persone competenti per il ruolo che svolgevano, che ricoprivano. Abbiamo un assessore al turismo che è un ingegnere, un avvocato all'istruzione, un imprenditore del settore agricolo alla cultura, persone che non si sono mai approcciate al lavoro, che però mandano avanti le attività produttive. Noi crediamo fortemente che sia venuto il momento delle competenze, quelle vere. E quindi noi istituiremo un tavolo tecnico del turismo. Sicuramente abbiamo già avuto l'adesione di Giancarlo Dallara, perché uno dei motori che noi vogliamo fare è quello del turismo delle cascine sul modello toscano, per cui ci vuole un esperto in questo settore. E abbiamo già avuto la sua disponibilità. Lui è il fondatore dell'albergo diffuso nel mondo, in Italia, presidente dell'albergo diffuso italiano, ma anche internazionale. Quindi grandi competenze sui settori di punta, che sono cultura e turismo. La cultura è un altro settore. Noi come comune non si può competere con l'Università e la Galleria Nazionale delle Marche. Quindi si deve fare un tavolo tecnico con Università e Galleria delle Marche. Abbiamo già avuto la disponibilità del dirigente Brachetti, che è appunto direttore di Gradara, a coordinare questo tavolo. E di contro poi ci vuole la sanità. Noi proponiamo e quindi faremo un accordo con i comuni di Auditore Sasso Corvaro e Montecalvo in Foglia per aprire a Schieti la Casa della Salute. Maurizio Gambini, ha la parola a quella che sarà la prima azione come sindaco. Ma la prima azione sarà continuare il grande lavoro che è stato fatto per riqualificare la città e presentarla per il turismo. Una città accogliente, diventata accogliente con la disponibilità in tutto il centro storico di attività produttive legate all'accoglienza, alla somministrazione di cibi e bevande, ma anche tutte le attività che comunque stanno tornando a investire a Urbino. Questo è quello che stiamo facendo e quello che vogliamo continuare a fare. Una città che praticamente ha collaborato con l'università, al di là di quello che si racconta, perché abbiamo dato spazi, spazi gratuiti, abbiamo fatto ripartire il petriccio che per il core business della nostra città e l'università, abbiamo dato spazi all'accademia, all'ISIA, perché abbiamo già assegnato questi spazi. E questa è una cosa nella direzione del turismo. L'albergo diffuso, noi l'abbiamo attuato, abbiamo acquisito appunto tutto il patrimonio dell'università, delle case in campagna, proprio per andare in quella direzione, perché è un conto dire, è un conto riuscire a farlo. Dire è facile, abbiamo acquisito appunto la fornace che prevede un albergo, le sale congressi, tutto un centro per le attività della città e abbiamo anche gli imprenditori che si sono approcciati all'investimento. Tutto il tema dell'ambiente del parco delle cesane che è attrezzato, cosa che non era mai avvenuta, ma anche nel settore dell'industria, perché al di là di quello che dicono gli altri candidati, noi abbiamo sbloccato tutte le aree che abbiamo nel territorio e abbiamo lavorato su tutto il territorio, non è che vogliamo far sviluppare la città. La città parte da Pian di Meleto, arriva a Fossombrone e con tutti i comuni dell'entroterra abbiamo in questi anni avuto una collaborazione e una delle cose che vogliamo fare è la provincia di Urbino, che è passata l'ora, sono 70 anni che doveva essere fatto. Se i comuni dell'entroterra sono andati in Emilia Romagna è perché non c'è la provincia di Urbino. Iniziamo la seconda tornata di domande, in questa seconda tornata la prima rispondere è Maria Francesca Crespini. Economia e turismo, quali sono i focus fondamentali, i progetti, le priorità? Sì, intanto rendere Urbino una città accogliente, che se ne dica accogliente non è assolutamente, non c'è segnaletica turistica, non ci sono personale formato, le attività che ci sono non sono coinvolte per niente, quindi ognuno va un po' per conto proprio, anzi io ne approfitto per fare un elogio ai commercianti che resistono in una situazione così difficile, a volte mi dicono che entrano due o tre persone al giorno. E che cosa fare sul turismo? Il turismo come dicevamo prima bisogna puntare su due filoni per noi e quindi fare degli investimenti economici di tipo quello che noi sosteniamo, l'economia di investimento circolare, fare gli investimenti che ricadano su tutto il territorio. E allora quando si parla di cementificazione come nella piana di Gaifa che ancora qui si insiste a dire di fare una zona industriale, quando i cittadini lì potrebbero avere un altro sbocco perché io voglio chiedere agli amministratori se la massima aspirazione come padri è far fare ai figli gli operai e invece non dargli la possibilità di fare degli imprenditori, ad esempio nel settore turistico culturale. E quindi bisogna investire sul turismo ma serio con una progettazione, capire dove si vuole portare la città e anche sul turismo non solo delle cascine ma anche quello congressuale che è un'altra forza enorme nella nostra città. Pensate che solo lo scorso anno sono stati svolti, 12 congressi internazionali della durata di più di tre giorni, 300 convegni, 250 seminari. Noi proponiamo che Palazzo Gherardi e lì bisogna investire i fondi del PNRR venga restaurato e venga trasformato nel Palazzo dei Congressi con un grande auditorium. Maurizio Gambini, Economia e Turismo, due temi importanti, quali saranno gli interventi principali? Vedete, io credo che i cittadini sappiano le cose che sono state fatte in questa città, non c'è bisogno di tante parole. I due candidati che sono qui con me avversi a questa amministrazione hanno proiettato un film già visto, perché uno era in maggioranza come consigliere dal 2009-2014 e la Francesca Crispini, cioè Scaramucci era in consiglio, la Francesca Crispini era assessore dei lavori pubblici. Gli anni dopo Scaramucci è stato in opposizione, la volta dopo non si è neanche candidato. Vedete, è un film già visto, cioè le parole in campana elettorale ne possiamo dire tantissime, noi le abbiamo invece fatte, quindi non abbiamo bisogno di parlare. In quegli anni dove gli amministratori erano prima di noi non è stato fatto praticamente lo zero assoluto, quindi è un film già visto, non c'è bisogno di rivederlo, credo che i cittadini non hanno bisogno di vedere il replay di quello che era successo nei decenni prima. Io c'ero e sono uscito nel 2007 proprio perché era lo zero assoluto. In questi dieci anni i cittadini erano visti rifiorire la città, non c'era nulla in città, non c'era quello che ho detto prima, in città l'accoglienza, ma non c'era il treno turistico, non c'erano nel territorio le strade di velte distrutte, l'illuminazione pubblica mancava ovunque, cioè potremmo, inutile fare i discorsi. Oggi in campione elettorale i programmi elettorali i più belli del mondo, qualcuno vuol fare anche l'aeroporto Urbino, ovviamente è chiaro che tutto è possibile, tutto si può fantasticare, però la realtà è che noi abbiamo fatto le cose, abbiamo preparato una città e abbiamo avuto dieci anni dove c'è stato un terremoto, una pandemia sul tema del turismo che i cittadini sanno bene. Ecco quindi quello che è stato fatto è molto di più di quello che speravo di riuscire a fare. Federico Scaramucci, il tema è sempre economia e turismo, quali gli aspetti più importanti? Gambini dice che in questi dieci anni la città è migliorata, ma noi chiediamo nel turismo sono migliorate o peggiorate le presenze turistiche, noi chiediamo nei servizi sanitari per la tutela dell'ospedale è migliorata o è peggiorata la sanità e dopo ne parleremo. Gambini è da 25 anni che è in comune, quindi è inutile che adesso fa discorsi come se non ci fosse mai stato. Perché la città è andata indietro? Meno 1700 residenti nella città, meno 10% di presenze turistiche, meno 20% di partite IVA, questa è la città che si trova oggi, il cittadino lo sa bene come dice lui, com'era la città e quello che è stato fatto prima e quello che è stato fatto in questi dieci anni. Noi lo ringraziamo per gli asfalti, per il taglio dell'erba e per il cambio delle lampadine e dei lampioni, però la città ha bisogno di un progetto nuovo, di una nuova prospettiva e chiaramente il turismo è il secondo motore che va acceso, che in questi anni non è stato acceso. Dal 2017 al 2022 i numeri parlano chiaro, sono numeri della regione Marche, non sono numeri che inventiamo noi e ci parlano di un calo drastico, addirittura tra l'anno del Covid 2020 e il 2023 c'è stato un calo delle presenze turistiche. Ora noi dobbiamo cercare invece di valorizzare la città di Urbino per quello che è, con il suo patrimonio inestimabile, con una collaborazione con tutti gli operatori, con una collaborazione con tutte le associazioni. Noi abbiamo proposto il progetto 52 settimane, 52 eventi perché ci sono 69 associazioni nella città e già solo collaborando con loro è possibile farlo. Abbiamo proposto di creare una fondazione che si occupi di attrarre nuove risorse per i grandi eventi. Abbiamo proposto di creare un ufficio di progettazione che possa supportare le associazioni culturali e chi fa attività turistica. Noi abbiamo proposto anche di lavorare per la promozione dell'immagine di Urbino nel mondo, che non significa andare a Nizza perché poi se guardiamo i dati i francesi sono meno di quelli di prima, quindi è inutile fare tanti discorsi. E in questi dieci anni abbiamo avuto anche Pesaro, capitale italiana della cultura 2024 e Urbino non ha voluto partecipare. Queste sono le cose vere. Passiamo al prossimo tema, il primo a rispondere Maurizio Gambini. Ambiente e giovani, quali gli aspetti più importanti su questi temi? Vedete, sull'ambiente credo che i risultati che sono stati ottenuti, la raccolta differenziata dal 49%, siamo passati al 75,5% nel 2023 e nei decenni passati non ha modificato un centimetro la questione della raccolta differenziata. Siamo riusciti a chiudere, cosa che nessuno credeva alla discarica di Caluccio, siamo riusciti perché i cittadini non l'hanno voluto, perché non se ne è più parlato del digestore a Canavaccio, perché l'azienda ha promosso e Gambini ha detto finito qui perché i cittadini non lo vogliono, adesso il Ricici lo vuole il PD, il sindaco di Pesaro, tutti quelli che sono in giunta a Pesaro, solo Gambini ha mandato i documenti per convocare l'assemblea per ritirare il progetto. Loro fanno finta di essere contro, però di fatto il procedimento va avanti e se si supera le elezioni il procedimento è andare avanti perché Gambini non è stato ascoltato per ritirare il progetto. Quindi noi non abbiamo bisogno di tante parole perché abbiamo fatto i fatti, ho citato queste cose perché chiaramente sono significative, bisogna ricordarsi di quello che è successo. Quindi i giovani noi stiamo predisponendo gli ambienti, li abbiamo predisposti in quegli sei anni, non abbiamo trovato nulla, l'ho detto prima, chi è accanto a me e governava prima di me con un governo che proveniva da Galluzzi, poi c'è stato Corbucci che era il migliore, il problema non era Corbucci, erano tutti quelli che erano con lui, che oggi si ripresentano, guarda caso, fantasticamente come la proposta nuova. E vedete, l'ha detto bene ieri Rosati, ha detto io sono col centro-sinistra però mi candido, tengo per futura per la Crespini. Ecco, è il gioco delle tre carte, si dividono per poi rimettersi insieme, invece noi abbiamo una proposta chiara, è continuare il buon governo di questa città. La parola a Federico Scaramucci sui temi che sono ambiente e giovani, quali le progettualità? Noi abbiamo sempre detto di no, senza se e senza ma la discarica di ricerci, non perché siamo degli ambientalisti ideologi, ma perché noi abbiamo un progetto di valorizzazione della città e del territorio che è diverso da quello di Gambini, perché in questi anni è migliorata o è peggiorata la condizione del nostro ambiente. Se c'è un progetto di discarica, la responsabilità è anche di Gambini, è inutile che si presenta con le PEC, con le mail di fronte ai cittadini, quando lui è vicepresidente della provincia, quando lui non si è mai opposto formalmente, non ha mai chiesto il ritiro, del progetto della discarica di ricerci e ha sempre saputo di questo progetto, perché comunque lo dicono i fatti, ad aprile 2023 bisognava stare in silenzio perché le scelte aspettavano gli uffici, a maggio 2023 non prendo una posizione in merito al progetto che non conosco, quindi la gente si, ha ragione il sindaco Gambini, la gente sa come sono andate le cose, in questi anni non si è mai formalmente opposto a questo progetto e se dovesse esserci nuovamente altri 5 anni della sua amministrazione non siamo sicuri che non vada avanti questo progetto, noi ne abbiamo chiesto il ritiro, per quanto riguarda l'ambiente poi noi abbiamo anche in testa di fare un progetto di collaborazione con gli altri comuni, perché le decisioni si prendono collaborando con gli altri comuni nell'assemblea territoriale di ambito e non facendo le tigne, facendo Cagnara come è stato fatto in questi anni. Per quanto riguarda i giovani, questa domanda è molto importante, molto interessante perché in questi anni i giovani se ne sono andati da questa città, noi invece dobbiamo lavorare perché possano rimanere, perché possano costruire qui il loro progetto di vita e di lavoro, noi abbiamo proposto di incentivare la residenzialità, se un giovane vuole venire a vivere qui, che proviene da un'altra città, bisogna dare un incentivo per far sì che possa rimanere qui, se un giovane vuole aprire un'attività bisogna dare degli incentivi per aiutarlo, per aprire un'attività commerciale, artigianale, agricola, quindi non discorsi ma sostegni, questo è dare una mano ai giovani, noi abbiamo scritto una lettera a questi tanti giovani che ci sono nella città di Urbino e siamo sicuri che loro sanno se in questi anni è migliorata o peggiorata la loro condizione. Maria Francesca Crespini, a lei la parola per quanto riguarda l'ambiente i giovani. Sì, allora parto dall'ambiente, l'ambiente per questa amministrazione veramente non è stato assolutamente di vitale importanza, lo dimostrano un po' le scelte fatte anche proprio contraddittorie, come diceva prima, che hanno fatto una permuta alla pari con l'Università di Urbino, uno scambio del Petricio, hanno preso dieci casolari nel parco di Pallino, però guarda caso, proprio lì a Riceci per fare turismo rurale, a Riceci e voglia che dice che non c'entrano niente, perché il consigliere nominato dal sindaco ha votato a favore della discarica di Riceci e adesso addirittura l'hanno rimesso anche in lista, uno che ha votato a favore della discarica rappresentato dal sindaco e non mi dicano che ha votato di testa sua, perché i consiglieri lì messi dalla politica si interfacciano di continuo, non fanno scelte personali, a Cannavaccio volevano mettere un biodigestore, hanno dovuto raccogliere 3.000 firme i cittadini per fermare quello brobrio, adesso sulla piana di Gaifo, una piana archeologica meravigliosa, cosa fanno? La cementificazione, un deposito per una ditta che potrebbe essere messa da un'altra parte, lì sempre nella zona industriale di Cannavaccio, quindi l'ambiente è qui, non c'è rispetto proprio per l'ambiente, sui giovani meno ancora, noi per i giovani intanto, siccome abbiamo 15 ragazzi in lista tra i 19 e i 35 anni, abbiamo fatto proprio un grande progetto per i giovani, intanto l'istituzione del consiglio comunale dei giovani urbinati, perché devono decidere loro le politiche giovanili, le politiche della scuola, gli eventi, la vita notturna, bisogna, come fanno già da tanti anni in tante città d'Italia, vogliamo creare l'arena per grandi eventi a Cannavaccio, perché è una zona strategica, lì alla fine della superstrada, vogliamo mettere un parco permanente alla fortezza Albornoz e non aprire i centri di aggregazione dentro i centri commerciali, come è a maltrattare così i ragazzi, a relegarli lì, Urbino è una città di cultura e questo bisogna insegnare ai ragazzi, la cultura, non a richiudersi dentro i centri commerciali. Voltiamo pagina per mantenere anche il minutaggio, voltiamo pagina con il tema della sanità, l'è stato accennato da alcuni di voi, riparte il giro con Federico Scaramucci. Sì, in questi dieci anni la sanità nella nostra città, nel nostro territorio non è migliorata, i cittadini lo sanno bene, io cito sempre un aneddoto, un signore mi ha detto, io Federico una buca la salto, ma quando vado all'ospedale voglio star tranquillo, questo per dire che va bene gli asfalti, ma la tutela dell'ospedale di Urbino, che è l'unico ospedale per acuti del territorio, deve essere continua, so bene che è una competenza di livello regionale, ma in questi dieci anni l'amministrazione di Gambini non si è impegnata per il personale, per le strumentazioni, per le prestazioni, invece occorre fare un lavoro forte di rivendicazione anche del personale, insieme agli altri comuni, noi abbiamo fatto un accordo con tutti i comuni della Valmetau e con i comuni di Pesaro e di Vallefoglia per lavorare insieme per difendere la sanità territoriale, per tutelare l'ospedale di Urbino, così come non si è fatto in questi anni, non basta fare passerelle gli ultimi 15 giorni prima delle elezioni. Noi abbiamo proposto per esempio anche l'infermiere di comunità, perché ci sono delle realtà anche nelle frazioni di Urbino dove non ci sono neanche più le cure primarie di base, ci siamo confrontati con i medici di base, sono 9 medici per 14.000 pazienti, qualcuno andrà in pensione, chi dà risposte ai cittadini, soprattutto con un indice di invecchiamento della città che è superiore a quello provinciale. Sappiamo anche che è necessario battersi, battersi, battersi per tutelare questi servizi perché naturalmente se una città non ha un ospedale adeguato, anche un servizio di accoglienza che quando c'è stato il Covid comunque era stato attivato e poi dopo si è perso. È inutile fare la palazzina delle emergenze se poi dopo non ci sono i servizi primari di base. Il cittadino sa bene che la sanità è un tema prioritario e in questi anni non ha funzionato la sanità, noi invece ci vogliamo impegnare perché la sanità funzioni, perché i cittadini anziani possono essere sicuri, possono essere più tutelati e in questi 10 anni questa amministrazione non ha dato questa sicurezza al cittadino. Le priorità, la parola a Maria Francesca Crespini per quanto riguarda la sanità per voi. Sì, sappiamo che il sindaco è responsabile della salute pubblica, intanto ancora a Cannavaccio c'è l'amianto ed è una cosa vergognosa perché sono stati spesi tanti soldi ma potevano essere investiti lì perché la salute è la prima cosa. Ma detto questo è vero che sulla medicina ospedaliera è la competenza della regione, però un comune, il sindaco può vigilare. Noi proponiamo l'istituzione di una commissione di diciamo così controllo fatta tra cittadini perché noi ripetiamo sia l'unica lista civica con grandi competenze all'interno, abbiamo appunto medici, infermieri, ostetriche, dirigenti e quindi noi sull'ospedale veramente vigileremo, faremo un comitato di controllo per intanto non farci più erodere specialistiche e per riportarne alcune, per provare a riportare anche l'area vasta qui in Urbino, ma e poi invece il comune che cosa può fare? Può investire soldi sulla medicina territoriale e quindi noi proponiamo un H12 se non H24, un servizio infermieristico nel territorio e poi assolutamente per sgravare un pronto soccorso veramente oramai intasato, sappiamo che si fanno file lunghissime e poi neanche ti curano, bisogna aprire la casa della salute con i soldi del PNRR e in accordo con i comuni della Val del Foglia, là insomma Aguitore, Sasso Corvaro, Monte Calvo, aprire lì una casa della salute, abbiamo anche delle case acquistate dal comune lì nella zona di Schieti e fare H24 delle strutture che possano proprio servire se uno si rompe un dito di fare una rastra lì, se uno si rompe la testa e rispondere al cittadino con servizi reali, non fare i discorsi perché la salute è diventato veramente un problema e noi essendo una lista civica e non avendo i lacci della politica possiamo veramente esercitare il controllo perché siamo liberi di parlare. Maurizio Gambini, le priorità sul tema della salute? Allora la priorità è riportare l'ospedale di Urbino al livello che era prima di 15 anni fa perché la passata amministrazione regionale fino a tre anni fa ha distrutto la sanità dell'entroterra e hanno portato tutto ad Urbino, io sono stato Presidente dell'Aria Vasta per cinque anni, poi me l'hanno tolta perché ovviamente devono fare gli interessi di Pesaro e le persone che sono qui accanto a me stanno portando avanti questa politica e anche su questo incide il tema di essere la provincia dell'entroterra perché se non era questa amministrazione regionale che faceva questo nuovo piano sanitario regionale che adesso verrà applicato perché ci sono voluti due anni per fare la riforma ovviamente ma l'abbiamo fatta senza assemblea d'aria vasta perché è stata tolta la presidenza Gambini e non ho visto le file del PD lavorare per tenere la presidenza di Urbino, non l'ho visto, non ho visto un'azione, l'hanno data a Paolini su indicazioni di Ricci e per fortuna non è stato portato tutto l'ospedale unico a Pesaro ma Urbino rimane un ospedale di primo livello e adesso con il nuovo direttore Carelli io mi sono incontrato con la Storti che ha dato le dimissioni lo sappiamo e Carelli invece ho capito che è una persona molto capace, i due incontri che ho fatto prima di tutto si parte con la medicina di base, con i medici di base, poi i primari, mi ha detto per me l'atto aziendale conta quando sarà ma per ora manda avanti le attività e io ho fatto veramente, sono stato soddisfatto di questi due incontri perché ho capito di aver portato, la regione ha portato nel territorio una persona capace, infatti da dove veniva il sindaco si è arrabbiato perché l'hanno portato via, quindi sulla sanità noi ci abbiamo sempre guardato ma per fortuna noi ci abbiamo guardato ma l'area vasta presieduta da Paolini non ha mai riunito l'assemblea in cinque anni, la riforma sanitaria senza l'assemblea d'aria vasta, non c'è bisogno di fare un'altra organizzazione, c'è l'assemblea d'aria vasta, quando c'era Gambini l'assemblea funzionava. Minutaggio finito, ricominciamo il giro da Maria Francesca Crespini, una battuta sull'andamento di questa campagna elettorale, è soddisfatta di come sta andando, quali sono in qualche modo il mood, gli sentitori di questa campagna? Noi siamo veramente molto orgogliosi perché intanto noi siamo cittadini, come appunto i cittadini che ci ascoltano, ci siamo pagati la campagna elettorale tutta da soli, abbiamo molto entusiasmo, abbiamo i valori, ci mettiamo l'amore perché siamo tutti cittadini che amiamo la nostra città e che vogliamo soltanto fare del bene alla città e sono cittadini che già stanno aiutando la città, io personalmente ho fatto anche con la mia associazione, sto facendo da tanti anni volontariato in questa città e siamo mossi tutti dallo stesso sentimento, il problema è che Urbino, non lo diciamo, non lo dicono propri dati, dati anche regionali, è un momento veramente di ripiegamento, tutto in negativo ed è la città in uno stato di prostrazione totale e che se ne dica, incolpano me che io proprio come amministratore poi io sono sempre stata, mi sono messa la faccia e mi sono sempre presentata da libera cittadina, ma questi che parlano, sono 30 anni che governano, lui dice a noi ma gli ricordo che il vice sindaco di Galluzzi è stato in lista con lui, il vice sindaco, i due vice sindaci delle due tornate di Corbucci sono in lista con lui, l'ex segretario del PD è in lista adesso, qui il nostro sindaco è stato assessore all'agricoltura in Unione Montana, cioè questi hanno governato da 30 anni, ecco quindi il nuovo siamo noi cittadini sono stanchi, non vogliono più saperne di tutti i discorsi, vogliono veramente dei fatti e noi crediamo di rappresentare una grande fetta di questa trasversale, chi è stanco di tutti i partiti può trovare in noi una forza nuova fatta di giovani e di donne, perché noi abbiamo la maggioranza anche delle donne, per cui cambiare il punto di vista anche dell'amministrazione sarebbe veramente una cosa molto interessante. Maurizio Gambini ha la parola sull'andamento di queste campagne elettorali. La campagna elettorale per noi è iniziata il primo di maggio, altri 4-5 mesi le persone si sono stufate, le persone ci hanno detto bene, sentito tutti i discorsi, alla fine abbiamo già scelto, io quelli che ho contattato e quelli con cui parlo tutti i giorni hanno già scelto, erano un po' sfrastornati, lo slalom al mercato al sabato tra i candidati che non riescono a schivare, le persone sono stanche, stante di sentire discorsi del calo demografico che invece è un'inversione di tendenza, credo che sia l'unica città del turismo che nel 2022, dati dalla Camera di Commercio, peso recalata al 17,5%, noi il 15%, Senigallia il 16%, Ancona il 40%, altre città di mare sono calate, per i motivi che sappiamo, l'unico anno positivo è stato quello del 2019 che è stato l'unico anno vero, c'è stata un'esplosione di turismo in urbino, 2020 pandemia e quant'altro, quindi le persone hanno capito che stanno raccontando una storia che non è quella vera, che la città è una città nuova, una città rinnovata e che ha cambiato la tendenza, ha fatto cambiare la tendenza questa amministrazione dopo un governo di 70 anni, a prescindere, Francesca Crispini era con me in consiglio nel primo mandato di Corbucci, tutti eravamo, però io sono uscito perché bisogna cambiare le cose in questa città e la gente lo sta percependo e se il PD e se Scaramucci ha 200 candidati è perché Gambini ha portato a casa Urbino capoluogo, se noi oggi a Urbino sotto 15 mila abitanti ci candidavamo con 12 consiglieri e 4 assessori e la città di Urbino se fosse stata questa condizione non si governa, lo posso garantire perché sono 10 anni che faccio il sindaco, con 4 assessori non si governa perché Urbino è una città complessa. Federico Scaramucci ha lei la parola per quanto riguarda un commento sull'andamento di questa campagna elettorale. Sì, noi abbiamo fatto tantissimi incontri per ascoltare quello che avevano in testa i cittadini, le esigenze del territorio e abbiamo costruito un programma partecipato, quello che Gambini critica come stanchezza in realtà è voglia di partecipazione, se tante persone si sono messe in gioco e hanno deciso di dedicare tempo, energie e risorse e tutte vanno ringraziate perché lui ha detto che si dovrebbero vergognare quelli che si sono candidati perché si sono messi conto l'amministrazione, invece noi ringraziamo sia chi si è candidato nelle nostre liste ma anche chi si è candidato nelle sue liste in quello di Francesca Crespini perché chi si impegna vuol dire che ha voglia di fare, ha voglia di partecipare. C'è stato un tappo in questi anni, per questi 10 anni di mancanza di possibilità di dire la propria, di partecipare perché tutto veniva fatto per concessione, noi stiamo per aprire questo tappo, invitiamo i cittadini a dare fiducia perché dall'8 al 9 giugno sicuramente l'amministrazione può cambiare, noi sappiamo che è importante fare l'asfalto, però se quei numeri che cita lui fossero positivi perché allora sono calati i residenti, perché sono calate le imprese, le partite IVA, forse è la CNA che dice le bugie come pensa Gambini o la Confartigianato perché tutti danno questi dati e sulle presenze turistiche è inutile fare tanti discorsi, le presenze sono calate, benissimo che in questi giorni c'era gente per i campionati di ginnastica, è positivo, ma la gente ci deve essere tutto l'anno, non solamente mordi e fuggi, le presenze devono aumentare, non gli arrivi, quindi noi abbiamo una percezione di grande interesse, di grande passione che le persone hanno messo in questi mesi, siamo sicuri che questo è il modo giusto per poter coinvolgere la città, un'amministrazione condivisa dove le persone possono dire la propria, dove l'amministrazione non parla ma l'amministrazione ascolta, condivide e poi decide quali sono le cose importanti da prendere, perché sennò succede come il biodigestore a Canavaccio, perché sennò succede come la discarica di riceci, quindi è inutile fare il birichino e dire le bugie perché poi dopo le bugie hanno le gambe corte come si dice nelle favole e le favole ormai sono finite. Riprendiamo il giro con Maurizio Gambini, come vede Urbino di domani e perché si dovrebbe votare Gambini l'8 e il 9 di giugno? Io Urbino di domani lo vedo con tutte le attività produttive e principalmente il core business della città che sono l'università, le scuole superiori, tutte le attività che ruotano intorno, con un'attività del Palazzo Ducale che veramente sta facendo un ottimo lavoro, credo che questo sia apprezzabile, con un Erdis che per fortuna la Presidente, che guarda caso come diceva la Francesca Pocanzi, guarda caso Urbino già le donne ci sono al governo, sono al governo dell'Ami, dell'Urbino Servizi, dell'Erdis, quattro donne in giunta su cinque uomini, quindi non dice nulla di nuovo e l'Urbino del futuro lo vedo anche come sviluppo artigianale, industriale, noi non siamo per non fare niente su tutto il territorio, come è stato fatto da 50 anni, perché non dimentichiamoci che le persone che sono insieme a quelli che sono contro di noi, sono quelli che hanno bloccato la sogesta perché non si doveva fare niente, che hanno bloccato la strada per Canavaccio, per Bio Borzaga quattro corsie, che hanno bloccato, che hanno bloccato praticamente, volevano bloccare la Benelli, per fortuna la Benelli che è l'industria della nostra città, diciamo è un gioiello, è una farmacia, non è un'industria e tutte le aree industriali, Canavaccio, Maschieti, Ponte Arbellina, vogliamo parlare di Ponte Arbellina che è il quartiere più degradato delle Marche e che ha comportato 500 calo degli abitanti, perché purtroppo Ponte Arbellina è stata evacuata per motivo che abbiamo comprato gli appartamenti, se oggi i cittadini vanno a Ponte Arbellina, trovano un parco, giochi per i bambini, ieri ci sono stato, veramente quelli di Gallo e di Petriano dicono che era meglio che facevano fare il ponte perché non li volevano vicino, oggi è un altro mondo, la città di Urbino è diventata veramente un altro mondo. Federico Scaramucci come vede Urbino nei prossimi anni perché votare Scaramucci l'8 e il 9 di giugno? Noi vediamo un Urbino viva, un Urbino vivace, con giovani, con imprese che riprendono, con abitanti che tornano, Gambini ha fatto il suo, ha governato per 10 anni, va bene gli asfalti, però non ha creato un progetto di prospettiva per dare delle nuove opportunità ai giovani, nelle imprese e le famiglie, non ha creato una città attrattiva, adesso lui vuole aizzare i cittadini di Urbino contro Pesaro, ma noi non dobbiamo competere con Pesaro, dobbiamo competere con Venezia, con Firenze, con Roma, dobbiamo lavorare perché Urbino che è una città internazionale conosciuta in tutto il mondo debba di nuovo sbocciare, questa modalità diciamo di mettersi contro tutti sempre non porta a nulla, noi abbiamo fatto collaborazioni con Pesaro, con Vallefoglia in una valle per le infrastrutture, abbiamo chiesto un accordo nella valle del Metauro con Fermignano, Fossombrone, Sant'Angelo, Peglio, Urbania, per fare un accordo sulla difesa della sanità, dei servizi territoriali, dei servizi pubblici locali, la collaborazione è una strategia per poter migliorare la qualità della vita della propria città e del proprio territorio, noi vediamo così la città che verrà, voi mi dovete credere, è vero che in questi anni si sia fatta anche un po' di manutenzione, però noi ci impegniamo a fare sia la manutenzione ma anche a dare un progetto nuovo di prospettiva per la città, perché in questi anni abbiamo perso dei treni carichi di opportunità, sono calati gli abitanti, è inutile fare tanti giri di parole, sono calate le imprese, sono calate le presenze turistiche, noi dobbiamo riportare i giovani, dobbiamo far sì che le famiglie possano rimanere a vivere qui con nuovi spazi sociali che sono stati tutti chiusi in questi anni, dobbiamo dare degli incentivi a chi apre un'attività di impresa qui e Urbino, guardatemi, è sempre stato a capoluogo, prima citato Ponte Armellina, programma straordinario di intervento per la qualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città, dei comuni capoluogo di provincia, 2017, quindi Urbino era già capoluogo di provincia e non arrivano soldi in più perché sei capoluogo di provincia, non credete a queste cose, i soldi arrivano in base al numero degli abitanti, quindi dobbiamo lavorare per riportare persone e per far sì che questa possa essere una città di nuovo attrattiva. Maria Francesca Crespini come vede Urbino tra qualche anno perché votarla all'8 e 9 di giugno scrivendo Crespini? Vedo una città smart, una città creativa, piena di giovani, di giovani che decidono di investire le intelligenze qua sul nostro territorio, di mettere sua famiglia qua, di trovare il lavoro qua, vedo una città ricca di eventi culturali insieme appunto con un grande fermento insieme all'università e a tutte le altre scuole di formazione, vedo una città con un albergo diffuso in tutto il territorio, vedo finalmente il territorio che bisogna valorizzarlo, qui noi dobbiamo puntare sul turismo che punti alla natura, al paesaggio e alla cultura e quindi vedo un territorio finalmente unito da piste ciclabili, da punti panoramici, da punti fotografici, da punti per i pittori, ecco vedo questo, non vedo invece appunto i biodigestori, non vedo di scariche di riceci e questo i cittadini lo sanno, si è parlato di Urbino 2, io invito tutti i teleascoltatori ad andare domani mattina a Urbino 2 e vedere se quello non è un quartiere degradato e che fa veramente, viene un senso di tenerezza senza porte, senza finestre, ci vivono le famiglie, è una cosa vergognosa, parlano di integrazione, di inclusione, ecco io vedo anche una città piena di scuole, non scuole fuse perché qui l'amministrazione ha chiuso le scuole e fra qualche anno i cittadini si renderanno conto della scelta politica, questa veramente che è stata autolesionista di questa amministrazione, perché votare noi? Perché siamo l'unica lista civica di questa tornata elettorale, perché siamo cittadini come voi e che è importantissimo che i cittadini entrino all'interno delle istituzioni per se non altro controllare l'operato della politica, quindi date la forza appunto l'8 e il 9 di giugno alla lista civica futura per una nuova gestione dell'amministrazione. Grazie, grazie mille per il vostro tempo, abbiamo avuto ospiti tre candidati sindaco per le amministrative dell'8 e del 9 di giugno, abbiamo fatto una panoramica su tanti aspetti, vi ringrazio per essere stati qui nei nostri studi, Federico Scaramucci, Maria Francesca Crespini e Maurizio Gambini, grazie. Grazie a voi, buonasera a tutti. Grazie, buonasera.